Salve a tutti sorelle e fratelli Salve nipotine e nipotine carissimi Io sono Nonna Hoplen Oggi mi teremo di youtuber Ah va bene, ok, mi ruba il lavoro Allora io a sto punto non servo più No, ciao, tremo di andare Via Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Sono Nonna Hoplen Bella a tutti ragazzi Benvenuti a questo nuovo video Sono Favij Nonna aspetta devi andare a prendere le cuffie Vai Nonna, te le sei dimenticato Vado, vado Ecco fatta Ho preso le cuffie Ma non quelle cuffie Nonna Ho preso le cuffie Ho preso le cuffie Un saluto Pantelliana a tutti Salve a tutti amici Sono Nonna Pantella Ah no, sono Nonna Hoplen C'è Matteo Che c'è? È pronto dai Ma non c'è un cazzo mamma E vabbè dai, per stare insieme Eh, ciao a tutti amici Sono il vostro caro Dexer E ora siamo qui per una nuova challenge love Insieme a Violetta Ciao ragazzi Vasily Vuoi un bel bicchiere di petrolio ? Ciao a tutti i ragazzi Oh a tutti i don hai hard Simone Facella Una crisi di identità 看,看,看,看 ha,看,看,看 Viva di cominciare Ci tenevo a dizere A ending Che devo farelo? E bagno Non so se l'ho già detto Il zanardo è bazzone Beh ragazzi siamo giunti al termine Speriamo che questo video vi sia piaciuto Se così è stato non dimenticate di condividerlo E di lasciare il vostro pollice in su Perché a 300 like uscirà il backstage di questo video Che vi assicuro è una cosa che fa troppo ridere Mentre a 400 inviteremo altri youtuber Però questa volta insieme al bonello Trovate tutti i suoi social Nell'info box E niente Iscrivetevi al canale Che fa bene alla salute Bella Non so se l'ho già detto Il zanardo è bazzone Grazie a tutti